Ciao creatura, io sono Ecate Splendente, benvenuta o bentornata nel regno di Cusai ISMR. A grande richiesta, ecco il video delle offerte del Lidl, un dolcetto scherzetto, offerte valide dal 19 al 25-10-2020, quest'anno veramente poche poche cose di Halloween. Allora, io sono già stata e alcune cose non c'erano già, non capisco se erano finite o se non sono proprio arrivate. Comunque, alla prima pagina troviamo figure di purea di patate a 99 centesimi, che sono praticamente delle crocchette di patate. Cioccolatini al latte, 1,39 euro, hanno solo l'involucro a forma di occhio. Non ho visto novità quest'anno per quanto ricorda le cose di Halloween, l'ha presa molto, molto deludente quest'anno, ok? Sì, ha preso la leggera, hanno già introdotto prima di Halloween le cose di Natale, come se fosse più importante, ma che maleducati. Ah no, una cosa nuova l'ho vista, però non l'ho presa. Allora, adesso andiamo a vedere tutto con calma e con ordine. Io credo che sia tutto storto, vabbè, sia tutto storto, ti chiedo scusa, che non capisco qua com'è messa la situazione. Comunque, popcorn caramellati, 1,99 euro, un bel secchiello da 250 grammi. Yogurt di Halloween, a 0,49 euro, succo, ai frutti rossi, per fare finta di bere il sangue, per fare finta di essere dei bambiri, no? Alla festa, che non si può fare, non si possono fare feste, purtroppo. 1,49 euro, così vanno feste, però bisogna essere meno di 6, quindi... posto così, faccio vedere così, eh, purtroppo quest'anno fa così. Beh, a me non cambia nulla, eh. Allora, poi, pizza di Halloween, farcita con crema, di zucca e pancetta affumicata, 1,99 euro. L'ho assaggiata, non è un granché. La pizza di Halloween, invece, questa, con salsa al pomodoro, formaggio cheddar, fuster, affumicati, i pomodori, 1,49 euro. E... Questa è già più buona. Però, niente di che... Patate dolci a spicchi, 1,99 euro. Queste mi facevano goglia, però non le ho comprate. Poi volevo queste, le crocchette con zucca, e non le ho trovate. C'era solo il cartello con il prezzo e il freezer, la parte delle crocchette era tutta completamente vuota. La promozione è iniziata a lunedì, io sono andata a lunedì e non c'erano, quindi non capisco se erano già finite, oppure se non sono proprio arrivate. Poi, l'unica cosa che volevo... Che fortuna! Torta alla panna e cioccolato, 6,99 euro. Halloween Cool Ghosts, gelato al gusto di vaniglia. Barbon. Barbon? Si legge così? Non lo so. Per 99? Non credo, però... Poi, allora, le donut di Halloween a 0,49 c'erano anche l'anno scorso, molto buone. Quest'anno, New Italy, c'è Halloween Chocolate Cheesecake Muffin a 0,89. È questo, perché c'è riflesso. È proprio così l'ho visto, sembrava tipo una cosa, la zucca, però c'è scritto Cheesecake Muffin e Chocolate, quindi non c'è la zucca, immagino, forse c'è, ma non... Cheesecake la zucca, però non lo specificano. Non l'ho preso. Poi, però potrei sempre prenderlo se lo dovessi ritrovare. Fammi sapere se l'hai assaggiato, creature. Nuggets di petto di pollo, 2,99 euro. Pasta tricolore, 0,99 euro. Queste tutte cose che c'erano anche l'anno scorso. Zucchero decorativo, 1,69 euro. Dolcetti spumosi con glassa, 1,79 euro. Halloween Marshmallow, dolcetti spumosi, 1,29 euro. E arachidi in pastella, 0,79 euro. Queste cose c'erano già anche gli altri anni. Per esempio... Ah, ma non ho letto lo snack di patatina. Non so perché ho saltato. Snack di patate al gusto di formaggio e bacon. con salati o al gusto di panna acida. Questi non li ho visti. L'anno scorso c'erano quest'anno. O non sono arrivati, arriveranno. Chi non sa. A di quel mio paese, 0,99 euro. Biscotti colorati, questi c'erano anche l'anno scorso. 0,99 euro. I biscotti con cioccolato al latte, 0,99 euro. Non li ho visti però quest'anno, sinceramente. Poi... Lecca lecca, 1,69 euro. Figure di Halloween al cioccolato in rete, 1,19 euro. Figure di Halloween di cioccolato al latte, 1,29 euro. Caramelle gommose Dracula, 0,99 euro. Caramelle gommose al gusto di frutta, 3,99 euro. Le caramelle rossana, che non sono di Halloween, ma sono sempre buonissime. Tra l'altro queste qui al cioccolato, io non le ho mai, mai, mai mangiate. Ho sempre mangiato queste, 1,39 euro. Erano le mie caramelle preferite, in assoluto. Di quando ero piccola, fino anche ora. E ho visto che esiste anche la crema spalmabile alla rossana. Che credo che tu sia la crema che trovi all'interno della caramella. Credo che sia una crema spalmabile al gusto della crema che trovi all'interno. In quel senso. E l'ho vista sia così, e sia quella al cioccolato. Deve essere buonissimo. È una crema spalmabile, stile... Quelle tipo al Bounty, Nutella, quelle cose lì. Però, di questa marca e di questi gusti qua. Se l'hai assaggiata, fammelo sapere nei commenti. Caramelle. Sono goleador, normalissime. Solo che hanno... Solo il packaging esterno di Halloween. Diciamo così. 2,49 euro. Caramelle gommose e tarantola. Molto belle queste. 3,29 euro. Te lo dico io che sono arachnofobica. C'è stato un discorso. Caramelle gommose e cioccolatini. 4,99 euro. Perché sono in questa simpatica confezione da mostriciattola. Che sono dei peluche. Che ho visti questi? Zucca di plastica ripiena con dolciumi. A 3,49 euro. Che, visto che non si può andare a fare dolci. Devo scherzetto. Lidl ti offre già una zucca di plastica. Già piena. Giustamente. Ci sta a senso. Ha senso. Si ci pensi. Poi. Piatti di carta Halloween. 1,49 euro. Ci sono molto belli. Picchieri di carta. 10 pezzi. C'è la versione viola. La versione arancione. Molto belli. 0,99 euro. Poi c'è la borsa in filtro per Halloween. A 3,49 euro. E le caramelle comose con ripieno di frutta. A 0,99 euro. Queste qua che fanno super senso. Perché sono degli occhi. Si. Io non riesco a mangiarli. Perché a parte che hanno una consistenza super gelatinosa. Ma poi mi fanno anche impressione. Te lo giuro. Dovaglioli Halloween. Molto belli. 1,19 euro. Poi. Rotolo casa Halloween. 1,39 euro. Che non ho visto. Cestino decorativo di Halloween. 1,99 euro. Caramelle comose. 3,49 euro. Sono proprio un mix. Poi c'è che non c'entra nulla. Però l'hanno messo qua per Halloween. Il Kinder. Quello dark. A 1,59 euro. Che l'ho già mangiato. Buono. Sì. Buono anche quello bianco. Ma il più buono secondo me. Resta quello al cocco. No scherzo. Resta quello classico. Quello al cocco. Ancora non l'ho assaggiato. Perché ancora non l'hanno. Spoiler. Messo in vendita. Poi. Cioccolato happy. 1,69 euro. Poi oltre al cibo andiamo a visionare anche i costumi, gli accessori, queste cose qua di Halloween. Allora. Costume di Halloween da bambina. E per bambino ancora facciamo queste distinzioni. L'iter. Vabbè lasciamo perdere. Non mi esprimo più. Basta. Perché sennò ogni volta dico le stesse cose. Per esempio. L'uomo mannaro per i bambini. E per le bambine la strega. Che la bambina non può fare l'uomo mannaro. Ha capito? Vabbè. Lasciamo perdere. Poi. Io non so quale sia il dritto adesso. Pah. Oggi mi sento un po' storta. Pazienza. Set. 6,99. 6,99. Poi. Set costume di Halloween per bambina. 6,99. Ancora. Calze di Halloween per bambini. Belli questi però. 1,99. Arrivato a Sam. E collato a bambina per Halloween. A 3,49. Poi anche le stesse cose però per adulti. E abbiamo. I costumi da donna. I costumi da uomo. A sempre a 9,99. Per entrambi. Non ho capito perché questo dovrebbe essere di Halloween. Vestito rosso. Con una barocca rossa. Cosa sarebbe? Cosa mi dovrebbe rappresentare? Che personaggio è? Mi confondo. Non ho capito. Vabbè. Comunque c'è il costume anche di Halloween per cani. Poi qua non ho capito perché sono per cani e per gatti. Niente però. Dettagli. Mi sento molto polemica oggi. Così. Va così oggi. A 6,99 euro. Un po' cari. Devo dire sì. Un po' cari. Considerando che è solo un pezzettino di stoffa. Poi. Non lo so. Sono rimasta un po' delusa sinceramente. Poi abbiamo gli accessori di Halloween per capelli. che non c'erano da noi questi. A 1,49 euro. E il cerchietto di Halloween per bambini a 2,99 euro. Poi. Poi. Delle parrucchie di Halloween a 3,99 euro. Le collande a donna a 2,99 euro. Che non ho comprato perché ho già queste che si illuminano al buio. Non so se anche queste lo fanno. E quindi vabbè. Poi. A 2,99 euro è la confezione accessori di Halloween. Poi abbiamo qua. le maschere di Halloween a 2,99 euro. E le maschere di Halloween per bambini a 1,99 euro. Poi da questa parte. Da questa parte abbiamo la catena luminosa di Halloween a 3,99 euro. con i fantasmini e le zucchette. E manca quello a pipistrello che ho comprato io. Molto strano. Ah no. Aspetta. Sì. Non c'è. C'è l'unica cosa che ho comprato io. Non c'è. Com'è possibile? Vabbè. Vai. Decorazioni confiabili di Halloween. Non le ho viste. A 1,79 euro. E poi. Qui c'è. Decorazioni a set pericolage di Halloween. Non le ho viste. A 2,99 euro. E che sono tipo in pisla. Non ho visto pisla. Sinceramente. Figura a 8 confiante a led per Halloween. A 2,99 euro. Nempure queste c'erano. Poi. Ultime cose di Halloween. Lanterna a led per Halloween. A 7,99 euro. Non c'erano neanche queste. Candela di Halloween. 1,99 euro. Queste sono le luci che ho comprato. Ci sono solo in foto. Nella pubblicità. Delle candele. Ma non ci sono nel. Nel reparto giù. Cioè. Nella foto. Dei led. Perché. Vabbè. Ma va bene lo stesso. Va bene così dai. Non ci soffermiamo troppo. Poi. Giustamente. Qua. Mettono anche. Le candele. Quelle. Per il primo. Per il giorno dei morti. E poi. Basta. Non c'è più. Nient'altro. Di Halloween. E volevo solo dirti che. Dal lunedì 19. C'erano anche le cose. Greche. Ma. Vedi. Sono due pagine così. Due facciate. C'erano. E poi. E poi. Boom. Basta. Girare due pagine. Siamo già al magico natale. Dal nostro assortimento. Con dei mini panettoni. Dolcetti vari. E basta. Dopo si passa qua. Ti passano dai panettoni. I dolcetti. E cioccolati vari biscottini. Dolcetti al cocco. Ma. Questi non li ho visti. Vabbè. Devo comprarmi anche questi. Avevo visto che. Ah. Questi dolcetti al burro. I miei preferiti. Questi qui. E poi. Giustamente. Cosa ti dicono? Compra delle tute. Per smaltire il grasso che hai. Accumulato dai dolcetti al cocco. E guarda. C'è tutto. È necessario. Per dimagrire. Esattamente. Ecco. C'è un po' di suoni della carta. Che io adoro. Poi dei bei pigiamoni. Le belle. Queste babucce sono bellissime. Io adoro queste babucce qui. Queste. Mi piacciono. Tanto. Tanto. E concludiamo con. Altri pigiami. Cose da cucina. E basta. Non è. L'ho fatto. Questo video l'ho fatto soltanto perché mi è stato richiesto. Tanto. E quindi l'ho fatto. Però. Come puoi vedere. Il motivo. Per la quale. Non è la mia intenzione. Fare. Realizzare il video. Perché non c'era tantissimo da vedere. E non c'erano novità. Quindi. Forse ci andrà meglio con. Il. L'appliant di natale. Che già hanno. Buttato fuori delle cose. Tante cose. Ma speriamo che. Mettono delle novità. Deluxe. Io. Confido in quello. Tu comunque. Lasciami comunque un mi piace. Spero di averti comunque fatto rilassare. Ti auguro buonanotte. Un relax. Ciao. Creatura. Creatura.